Gli esperti del consorzio di tutela l'esaminano una ad una. Dopo la verifica dell'organismo di controllo, viene applicato il bollo a fuoco sulle forme che hanno i requisiti della denominazione d'origine protetta. Alle forme che non presentano i requisiti per la DOP, vengono asportati tutti i contrassegni e la scritta a puntini. Per i maestri casari è uno dei momenti più delicati e per i consumatori è la fase più importante. È il momento della selezione e della certificazione di una garanzia assoluta sul prodotto. Sul formaggio che viene avviato al consumo come fresco, un termine che può suonare curioso per un prodotto che ha già un anno di maturazione, vengono incisi solchi paralleli che lo rendono immediatamente riconoscibile dai consumatori. Questo è il parmigiano reggiano di seconda categoria, detto mezzano. A 18 mesi, su richiesta, alle forme può essere apposto il marchio Extra o Export. Ma è soprattutto un sistema di bollini colorati che aiuterà il consumatore a individuare il grado di stagionatura del prodotto preconfezionato disponibile nei punti vendita. Grazie. 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 Grazie.